Un educatore ambientale non è un semplice studioso dell'ambiente naturale, ma una figura professionale che attraverso la propria conoscenza e sensibilità vuole promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali e collettivi, perseguendo gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Educare l'ambiente alla sostenibilità oggi è un compito portato avanti soprattutto da enti pubblici come parchi e riserve e da organizzazioni di protezione ambientale e nel nostro paese ha raggiunto punte di eccellenza. Chi si occupa di educazione ambientale sa quanto importante sia il contatto diretto ed emozionale con l'ambiente, la possibilità di entrare in contatto con la natura, sperimentandola in prima persona e vivendo il proprio territorio. Il Parco del Serio offre ai giovani cittadini di tutte le fasce d'età una vasta proposta di progetti di educazione ambientale volti a favorire la partecipazione attiva del bambino in ogni fase della formazione, a partire da quelle che sono le loro esperienze, conoscenze, aspettative, domande e necessità e proponendo attività strettamente legate ad esse e adeguate alle età e al grado di esperienza, così da generare una crescita personale e una reale comprensione del mondo che ci circonda. L'apprendimento per scoperta, soprattutto nelle fasce di età più giovani, consente ai bambini di immergersi completamente e lavorare con tutto il corpo, scoprendo il mondo con tutti i mezzi sensoriali di cui dispongono e comprendendo in questo modo, attraverso la sperimentazione diretta, il territorio in cui vivono e la natura. Poi interventi educativi pensati per i ragazzi che si basano sulla ricerca attiva in cui i ragazzi sono chiamati a costruire il problema, analizzarlo nelle sue molteplici componenti e individuare proposte e soluzioni applicabili da ciascuno. Come ci dimostra l'ecologia? E come tutti noi dovremmo sapere, l'apprendimento collaborativo è una strategia vincente. Lavorare in gruppo attorno ai problemi reali consente di imparare, confrontarsi e di risolvere conflitti cooperando per trovare soluzioni condivise, lavorando insieme per metterle in pratica. Alcuni giovani naturalisti, alle prese con lo studio dell'ambiente in cui vivono, si sono attivati in monitoraggi ambientali che gli hanno permesso di comprendere l'importanza della raccolta dei dati e delle informazioni per la comprensione dello stato di salute dell'ambiente. Insieme abbiamo imparato l'importanza di un metodo scientifico per analizzare l'ambiente e compreso come i dati raccolti risultino uno strumento molto importante per la tutela dell'ambiente e proponendo interventi quindi di gestione a favore della biodiversità. Abbiamo effettuato dei campionamenti ambientali che riguardano aria e acqua utilizzando dei bioindicatori, cioè degli organismi capaci di darci delle informazioni che riguardano proprio lo stato di salute dell'ambiente indagato. In particolare abbiamo rilevato i licheni, per comprendere lo stato di salute dell'aria che respiriamo, e le comunità di macroinvertebrati acquatici, per comprendere lo stato di salute del fiume. Calcolato degli indici che possono esprimere quanto un ambiente si discosti dal livello di naturalità, offrendoci infine la possibilità di riflettere e ragionare sui fenomeni di alterazione e sull'inquinamento a tutti i livelli, arrivando poi a ripensare alle nostre abitudini quotidiane in funzione di un miglioramento della salute del nostro pianeta, la nostra casa e quella di tutti gli esseri viventi.